Ciao, sono Luca Vezzì, un amico di Mr. B. Benvenuto alla mia festa! Questa è la zona buffet. Qui ho preparato diversi tipi di bevande, libità alcoliche, succhi di frutta e birra. Ne vuoi una? Ah, una cosa fondamentale, il cavatapi deve sempre stare in una zona visibile a tutti, così ognuno può aprirsi la sua. Tieni! Purtroppo a me non bastavano i bicchieri per tutti, così con un po' di inventiva ho mischiato i bicchieri che avevo. Qui invece ho preparato un po' di cibo, ho preparato diversi tipi di pizza e ho anche messo i miei biscotti preferiti. Ehi! Se voi in Cina non avete la pizza, non importa, potete mettere il cibo che volete voi. Ovviamente non possono mancare popcorn, patatine e macedonia. Alla mia festa li troverete in tutti gli angoli, così che tutti possano trovare più facilmente. La cosa fondamentale è che ci si diverta tutti insieme. Siamo uno spazianti dove giocare tutti insieme ed è un gioco a cui tutti possono partecipare. Ehi! È il mio turno! Dai, vieni! Tista è il mio gioco preferito! Sono un fenomeno! Un fenomeno! Perdiamo il fannarello! Sì! Dovete preparare delle penitenze divertenti. Noi in Italia usiamo il pennarello. Voi in Cina che penitenze avete? Dai ragazzi, venite! Dai! Dai, ci hanno chiamato. Andiamo a giocare, vieni! Tambone! Dai, ci hanno fornato! No, non puoi far vedere questi stanzi rancito? Ci ha una pressione. Ti risponso? No! No! Buonearningo! Ciao! Tenete la nuova! Vieni! Andiamo We in Cina Co perspectives! lassenio! No. Vi due zero,иль! Costa su voi! Mi bestonco!